I graffitari sono tornati a colpire le nicchie di San Bernardino. Pensate che furono restaurate nel maggio del 2011 e ripulite grazie a delle donazioni private. Anche in quell'occasione, dopo pochi giorni, cominciarono a comparire delle scritte che determinarono una grande indignazione presso la popolazione, anche perché era una riconquista simbolica di un luogo dopo il terremoto. E oggi è accaduta la stessa cosa. Questa scalinata è stata ripulita e questa è invece la situazione che troviamo oggi. Il tenore delle frasi e delle scritte è sempre lo stesso. C'è però una differenza nel maggio del 2011, sull'onda dell'indignazione scattò un'indagine della polizia che portò alla denuncia di un ragazzo di una frazione dell'Aquila. Oggi invece pare che tutto taccia e che ci sia una sostanziale indifferenza sulla triste sorte di questa scalinata. Ma ormai forse l'ha segnata, non sento più niente, non sento più la mentele, quindi se l'ho segnata. Non è un'immagine gratificante per l'Aquila. Chiaramente va fatta molta prevenzione. Già appena fatta la scalinata i ragazzi in libertà fecero le scritte. Noi denunciamo come cittadino la presenza di una telecamera che da subito dopo il terremoto, appena venisse l'imbarcatura dell'Atea di Amicis, fu posizionata là, ma purtroppo non è andata mai in funzione. Quello poteva essere un bellissimo deterrente per vedere chi faceva questo vandalismo sulla scalinata di San Bernardino. Che pensiero le viene vedendo tutte queste scritte su un monumento storico, le nicchie della scalinata di San Bernardino? È duplice. Da un punto di vista penso che l'amore è forte e per cui le pulsioni a significarlo sono altrettanto forti. Poi d'altra parte invece ci vorrebbe un po' di intelligenza capire che un'opera d'arte va rispettata. Ci sono occasioni, modi e anche luoghi dove poter fare la cosa del genere. Lì non mi sembra appropriato.